Buona serata a tutti da Marcus, ben ritrovati nel gruppo Telegram 11 e 1 ambetto senza il 90 uè bastò 90, sti 90 dove sono finiti? Allora come ho già detto in comunicato su Telegram è inutile fare altre previsioni se poi non escono, quindi proviamo ancora i due colpi ancora su Roma e stoppiamo un attimo quelle su Telegram per risparmiare qualche soldo, ok? Quindi adesso questo è uscito un ambetto su Venezia, però quella di Roma non si è visto nessun 90 con i suoi abbinamenti probabile che esca con i suoi abbinamenti, quindi tentiamo gli ultimi due colpi, arriveremo a 7 colpi su Roma e poi finiremo lì, ok? Quindi almeno 1-2 colpi massimi e poi basta Da parte mia è tutto, il file 8Dart è stato aggiornato, ci risentiamo da Marcus, buona serata a tutti, grazie